Seconda prova scritta per la maturità 2024 al liceo scientifico per il compito di matematica sono stati proposti tradizionali due problemi, due classici studi di funzione. Tra gli otto quesiti proposti aggiuntivi ai due problemi non sono mancati riferimenti a casi concreti, dal triangolo isoscele alla moneta truccata, passando per la descrizione matematica dell'orbita della Terra intorno al Sole. Abbiamo sentito alcuni studenti del liceo scientifico di Fermo che, contrariamente a quanto canta Antonello Venditti notte prima degli esami in cui dice la matematica non sarà mai il mio mestiere, sembra che se la siano cavata piuttosto bene. Com'era il compito di matematica? Difficile? Abbastanza semplice, spero sia andata bene, non lo so, vediamo. Qual hai scelto? Il problema 1 e questi siti ho fatto il 2, il 3, il 4 e il 7. Com'era questo compito di matematica? Una parte facile e una parte più difficile, più complicata, però era fattibile comunque, come le tracce di italiano erano fattibili. Quindi è andata bene? Sì, penso di sì. Penso sia andata comunque bene, ho fatto tutto quello che dovevo consegnare, quindi comunque sì. Bene, bene, si punta a aver preso il... Sì dai, sì, 16, 15 dai. Tranquillo a me. Si può fare, era facile dai, era facile. Per te? Sì, sì, anche io, 16, 17, spero di averlo preso. Dai, dai, dai. Ah, i quesiti della parte giusti, i problemi erano fattibili, rispetto agli anni scorsi ci sta, c'è andata bene, c'è andata bene. Al liceo temisto che le calzecchionesti, gli studenti del linguistico si sono invece cimentati con la terza lingua. Il secondo scritto, potevate scegliere la lingua? No, noi facevamo tedesco, è uscita la terza lingua, mentre qualcuno faceva spagnolo o russo. E quindi seconda prova, terza lingua per il linguistico? Sì, esatto. E com'è andata? Per noi di tedesco è andata bene, non era difficile. Com'era questa seconda prova? Comprensione, alla fine non tanto difficile, le tracce di produzione erano solo 150 parole, quindi non è impossibile, però comunque c'era da ragionarci perché erano temi da sviluppare attentamente. E com'è andata? Secondo me c'è una predizione che è andata abbastanza bene. Com'è andato il compito questa seconda prova? Bene, bene, è andata, spero bene. Era come te l'aspettavi? No, era molto più difficile. Per gli studenti del classico la versione di greco ha visto un brano di Platone tratto da minosse o della legge.